Ferentinos di Alex Story & Verde da Iepur sotto Ferentino di proprietà di Alessandro Pompeo Umberto Bossi Finalmente Umberto Bossi mi comincia a piacere a essere un po' simpatico era ora che la fonesse di pensare solo alla patagna agli po', all'oronde a far vedere come si beva dalla polla magari per domani invece io che non usavamo la coperta e cominciassero a pensare pure agli altri italiani io lo sapevo che prima o dopo ci sarei pensato ora voglio bene ora stai a dimostrare uno di noi il dialetto alla scuola ora ci siamo indovinati continuo così facceli metto perché insieme a Issa a scoprire gli usi i costumi le tradizioni e la storia che ci stavano in tutti gli paesi che formano l'Italia e... indovinato poco pur la patagna te che dopo se ne pare da scarpe ho nonostante da allora saputo rifare il dialetto me lo dici tu a come se rifare se si perde negli sogni bravo Umberto musica mi piace ma perché quando ci troviamo in cattura in gioceria così ti facciamo vedere gli altri che teniamo altri che giocci te lo freghi la patagna che quella che teniamo qui gli fiumi gli lacchi le montagne che teniamo qui non sono grossi come il coso che tenete qui in cima ma poi non sono posti più belli dei figli che tenete qui anzi perché non ti dai da fare metterci una buona parola a chi lo conosci tu può far diventare la mura ciclopica o megalitica o policonale chiamano la comodopara che stava a printina può farci lo riconoscere come un bene dei patrimoni mondiali dall'UNESCO dato da fare perché se non gli stai caduto agli essi treni dagli palazzi si sembra ottenuto tutto